C'è un filo prezioso che unisce chi non vede e non sente al resto del mondo. Sono i volontari della Fondazione Lega del Filo d'Oro, una risorsa fondamentale per permettere a bambini e adulti sordocechi di vivere relazioni spontanee e sentirsi più partecipi delle proprie vite, su cui utenti, famiglie e l'intera fondazione hanno da sempre potuto contare. E per acquisire le competenze necessarie dal 3 febbraio riparte a Molfetta, in provincia di Bari, il corso base di formazione per i nuovi volontari 2024. Per parlarne abbiamo in collegamento Sergio Giannulo, direttore del centro del Filo d'Oro a Molfetta e di Molfetta. Buongiorno Sergio, benvenuto. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. I volontari rappresentano in qualche modo gli amici speciali, come abbiamo voluto chiamare questo nostro progetto, in quanto permettono ai nostri ospiti di intessere relazioni di amicizia vera, cosa che evidentemente impreziosisce la loro vita. E poi perché i volontari forniscono un supporto decisivo nell'offrire ulteriori possibilità di socializzazione, di crescita a tutti i nostri ospiti, in quanto affiancano i nostri professionisti e ci mettono nelle condizioni di offrire maggiori occasioni a tutti i nostri ospiti. C'è un volontariato diretto e un volontariato indiretto. La cosa che però colpisce è che c'è una formazione dietro, dunque il volontario non viene buttato lì, potremmo dire così, ma in qualche maniera viene formato perché le persone a cui presterà il proprio tempo, la propria opera, hanno bisogno di gente che davvero sia formata. Certo, annualmente in tutte le nostre sedi organizziamo un corso di preparazione, un corso base di preparazione, in modo tale che chi ha interesse intanto ad approfondire le tematiche e poi eventualmente a proseguire in un percorso prima di affiancamento e poi di volontariato attivo, possa essere messo nelle condizioni di farlo al meglio, sempre guardando innanzitutto al benessere dei nostri utenti. Quindi nel caso specifico del prossimo corso base, nell'ambito di alcuni incontri, sei incontri, fra quattro online e due in presenza presso il nostro centro di Molfetta, che si terranno nel corso del mese di febbraio, forniremo la possibilità attraverso incontri e testimonianze, di mettere nelle condizioni gli aspiranti volontari, di ricevere quelle informazioni necessarie per poter approcciare al mondo della sordocecità e della pluriminorazione psicosensoriale. Come? Innanzitutto partiamo da informazioni relative ai vari metodi di comunicazione con persone che eventualmente utilizzano, ed è quasi sempre così, modalità di comunicazione che non sono quelle, diciamo così, classiche e ordinarie, per cui chi approccia a loro ha necessità di avere quegli strumenti minimi per avviare una relazione. E poi tutta una serie di altre informazioni, intanto sulle caratteristiche dei nostri ospiti e di tutto quello che circonda il loro mondo in termini in tema di autonomia, di gestione del tempo libero, di attività socializzanti. Insomma, mettiamo nelle condizioni i nuovi volontari di diventare veri amici dei nostri utenti. Sergio, il corso base ripartirà appunto il 3 febbraio, riparte a Molfetta, parlavi appunto di quattro incontri online e uno in presenza. C'è tempo fino a quando per candidarsi a questo corso che ricordiamo è completamente gratuito? C'è tempo fino al 31 di gennaio rivolgendosi o presso la nostra sede, quindi è facile trovare sul sito legadelfilodoro.it tutti i nostri riferimenti e candidandosi attraverso una chiamata o mandando un'email si verrà ricontattati da una nostra collega che è referente per tutti i nostri volontari. Dopodiché il percorso comincia il 3 febbraio con quattro incontri nelle prime due settimane, il 3, il 7, il 10 e il 14 che sono incontri pomeridiani, quasi serali, dalle 18 alle 20 in modalità online, quindi a distanza. Mentre invece il 17, sabato 17 e sabato 24 prevediamo delle attività in presenza presso il nostro centro di Molfetta che si trova fra Molfetta e Terlizzi, dove oltre alla, abbiamo già detto, attività di conoscenza e formazione ci sarà modo di conoscere più dal vivo, più direttamente le nostre attività e anche le nostre persone perché ci sarà modo di incontrare volontari già attivi, di incontrare alcuni familiari, di incontrare alcuni operatori in modo tale da poter raccontare direttamente quella che è l'esperienza del volontariato, che non è un'esperienza solo di tipo, come dire, formativo, intellettuale, ma è più che altro un'esperienza di vita perché nel momento in cui, terminata questa fase di conoscenza, si avviano le attività, è ovvio che si passa ad un livello di condivisione anche emotiva molto forte che crediamo, questo dicono un po' i nostri volontari che magari da tanti anni supportano le nostre attività, possa diventare un'esperienza che migliora la vita innanzitutto dei nostri tenti, ma, come si dice in questi casi, anche dei volontari perché quando si dà, spesso si riceve anche di più. Bene, allora ringraziamo Sergio Gianullo, direttore del Centro Filodoro di Molfetta, per averci illustrato questa davvero interessante iniziativa. Vogliamo ricordare i modi per mettersi in contatto con voi, Sergio? Certo, la via più semplice è consultare il nostro sito www.legadelfilodoro.it oppure, cercando i nostri riferimenti telefonici, chiamare il centralino del nostro Centro di Molfetta, lasciare i propri recapiti in modo tale da poter essere subito ricontattati. Bene, grazie Sergio. Una battuta finale. C'è il volontariato diretto, come diceva anche prima Leonardo, ma c'è anche quello indiretto. Chi magari non può fare il volontario può contribuire in altri modi e può aiutare la Lega del Filodoro anche in altri modi. Certamente. Chi avesse piacere di sostenere le nostre attività non a diretto contatto con i nostri utenti, perché per vari motivi preferisce così, può essere comunque di grande aiuto fornendo attività di volontariato cosiddetto indiretto. Facciamo qualche esempio. So guidare un pulmino e quindi mi metto a disposizione quando c'è da fare un'uscita o una gita. Sono disponibile a garantire un supporto per un'attività nell'ambito di un laboratorio teatrale, di cucina, di qualsiasi genere. Posso farlo perché sono bravo a preparare, costruire, realizzare tutto quello che può essere indirettamente a supporto delle nostre attività e dei nostri utenti. È ovviamente considerato un contributo molto importante anche qui per la vita dei nostri utenti stessi. Grazie. Grazie ancora Sergio Giannulo per essere stato con noi. Grazie alla Lega del Filodoro per quello che fa. A disposizione anche per altre iniziative. Grazie tante a nome di tutte le nostre famiglie. Grazie, grazie. Ringraziamo allora Sergio Giannulo, direttore del Centro Filodoro di Molfetta. Adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi i primi aggiornamenti di giornata. Grazie. Grazie.